Bentornati, oggi parliamo di Solone, cerchiamo di capire gli interventi di questo grande importantissimo Arconte che intervenne nella società tenese e quindi andremo proprio ad analizzare le sue riforme, però scopriremo anche che queste riforme non sono effettivamente rivoluzionarie, nel senso che Solone appartiene comunque a una classe sociale molto potente, molto ricca, quindi vedremo che il suo intento non è quello di sovvertire l'ordine della società ma è importante dire subito che per Solone fu importantissimo creare un governo che fosse maggiormente equo, questo sì, quindi tenterà comunque di ridurre lo strapotere dei nobili e soprattutto vedremo che grazie a Solone non solo cambierà l'architettura sociale, ovviamente cambia sulla carta, occorrerà tantissimo tempo per poi vederne i frutti anche a livello pratico, però lui di fatto cambierà la suddivisione in classi sociali, vedremo che ora la società verrà divisa e ripartita in base al censo, quindi in base alla ricchezza, infatti si parla proprio di costituzione timocratica da timè che significa proprio onore ma anche ricchezza, quindi non più una società basata sull'etnos, quindi sulle quattro tribù etniche di Atene che abbiamo già visto, ma si baserà proprio ecco sul censo, quindi sulla ricchezza posseduta e vedremo che siccome i nobili sono i più ricchi è chiaro che continueranno a fare quello che facevano prima, quindi a governare di fatto la città, però è importante perché Solone introdurrà questo principio di laicità dello Stato e quindi farà capire agli Atenesi, e lui era molto convinto di questa cosa, cioè del fatto che quando ci sono dei problemi politici, economici e sociali la colpa non è da imputare gli dèi, quindi non bisogna prendersela con gli dèi, ma soltanto con i propri politici, con i propri governanti, perché lo dice Solone, la colpa non è del divino ma è dell'uomo, cioè del mal governo, di coloro che gestiscono e amministrano la cosa pubblica, pertanto tutti coloro che vogliono lamentarsi lo devono fare con i propri rappresentanti, perché sono loro che eventualmente non sanno risolvere i problemi della propria città, quindi è un concetto veramente importante e innovativo assolutamente, però per capire meglio quindi anche questa suddivisione che vedremo poi in un secondo video, nella prima parte ci occupiamo proprio della società atenese e vedremo quali sono gli interventi di Solone a livello economico e sociale, poi per ultimo in un secondo video teniamo invece la riforma in classi sociali. Innanzitutto sappiamo che Solone fu un arconte, non si è certi sulla sua data, però sappiamo che fu arconte o nell'anno 594-93 o tra il 93-92 avanti Cristo, quindi siamo nel VI secolo, proprio agli inizi, ed è importante perché Solone interviene sia a livello economico sia a livello sociale nonché politico. Fu lui a risolvere la contesa tra i ciloniani, quindi la famiglia di Cilone che era stata sterminata e i suoi sostenitori da un lato e la famiglia invece degli Alcmeoni di questa ricchissima e potente famiglia di antica data di Atene, la quale venne mandata in esilio, quindi Solone risolve la questione attraverso un atto giudiziario. Megacle degli Alcmeonidi aveva sterminato la famiglia di Cilone, Cilone compreso, quindi aveva ucciso molti familiari per il primo tentativo del 630 di instaurare una tirannide. Ecco Solone quindi per condannare e punire questo atto, quindi questo omicidio plurimo, questi assassini, affidò ovviamente il processo quindi a un tribunale speciale, ai famosi effetti, quindi a una nuova istituzione e appunto attraverso un atto giudiziario quindi risolve la questione. Va proprio a porsi, vedete, come un intermediario, quindi una sorta di arbitro super partes in una questione, in una disputa tra due famiglie nobili, quindi tenta in qualche modo di intervenire. Abbiamo già detto una pratica comune nel mondo greco, quindi nel mondo atenese in particolare, quello di rivolgersi a un arbitro che fosse super partes per dirimere le contese, quindi viene risolta la questione con un atto giudiziario. Quello che però adesso è interessante è proprio l'aspetto economico, anche agricolo e sociale, quindi vediamo un attimino come era suddivisa la popolazione in Attica e scopriamo subito che la maggior parte delle terre era posseduta dai nobili, dei grandi proprietari terrieri, quelli che noi chiamiamo anche nel mondo romano i latifondisti. Hanno il controllo della maggior parte delle terre da un lato, dall'altro lato ci sono i poveri, ci sono i nullatenenti, i proletari, cioè coloro che possiedono solo la prole, cioè i figli, quindi all'interno di questa categoria però attenzione perché vedremo che i teti, come si chiama la quarta classe sociale che poi verrà istituita, vedremo da Solone, ma siamo in dubbio anche su questo, ma lo vedremo dopo. Comunque all'interno dei teti della quarta classe sociale ci sono tantissime poi sottocategorie, quindi attenzione a non fare confusione, a non pensare che tutti i teti sono nullatenenti, perché non è così. Ci sono persone che hanno un reddito inferiore ai 200 medimni, quindi non possono accedere alla terza classe sociale, quella degli zeugiti. Ci sono persone che guadagnano o meno di 200 medimni oppure che non hanno nulla, quindi ci sono salari e stipendi vari e poi all'interno di questa categoria ovviamente troviamo gli schiavi, quindi coloro che non hanno né diritti né ovviamente nessuna possibilità di partecipare alla vita politica, ci sono ovviamente persone libere ma che dipendono moltissimo dal loro padrone, dal signore, perché hanno degli obblighi nei suoi confronti e ci sono i piccoli proprietari terrieri, naturalmente quei contadini che sono liberi proprietari ma sono poveri perché hanno poche terre. Quindi sappiamo molto bene quindi che la maggior parte nel tempo era stata assorbita, acquisita dai nobili, dai grandi proprietari terrieri, in particolare dai pentacosium edimni, quindi vedremo poi di che cose si tratta. Quindi all'interno della quarta classe, quindi i teti, ci sono varie sottocategorie ed è importante capire questo assetto, questa architettura sociale per comprendere meglio poi la riforma che fa appunto Solone, cioè dove va a intervenire Solone, quindi da un lato i ricchi e dall'altro lato i poveri. E all'interno di questa quarta classe sociale ci sono anche coloro che furono definiti ectemoroi, cioè in greco significa quelli della sesta parte, cioè coloro che dovevano consegnare al Signore, al padrone, i cinque sesti del loro raccolto e potevano tenere per sé soltanto un sesto del raccolto. Ecco perché si chiamano quelli della sesta parte, perché trattenevano per sé soltanto un sesto del raccolto e voi capite bene qual è il problema perché adesso ci stiamo arrivando. Se ci fosse stata una cattiva nata, quindi un anno in cui non avesse raccolto nulla, quel contadino sarebbe andato in crisi, cioè non sarebbe più stato in grado di pagare il proprio Signore. E cosa succedeva? Succedeva che quel contadino o perdeva la libertà perché non era in grado di pagare oppure si doveva indebitare, doveva cioè chiedere un prestito, ma se i prestiti non vengono poi saldati e ripagati con gli interessi non si perdono soltanto le proprietà ma si perdeva anche il proprio lavoro. All'epoca di Solone nel sesto secolo esiste la schiavitù per debiti, è un concetto chiave per comprendere la riforma di Solone, esiste la schiavitù per debiti, cioè i contadini, quindi tutte le persone che lavoravano, quindi i lavoratori che non riuscivano però a pagare i propri debiti o comunque a soddisfare le richieste e gli obblighi nei confronti dei loro signori, erano costretti a ipotecare non soltanto i propri beni ma anche il proprio lavoro e soprattutto quindi i propri servizi, insomma le proprie capacità lavorative, ma soprattutto dovevano impegnare, quindi ipotecare anche se stessi, quindi come garanzia veniva data anche la propria persona, quindi se un contadino non fosse stato in grado di pagare sarebbe diventato schiavo. Questo è importantissimo perché? Perché provate a pensarci, quindi chi diventa schiavo perde tutte le sue terre, quindi il nobile che cosa fa? Assorbe le terre del suo ex, quindi dipendente o del piccolo contadino che non riesce insomma più a pagare e se è libero può anche per esempio vendere tutto ciò che ha senza magari diventare schiavo, riesce cioè ad ottenere la cifra vendendo i campi, però poi è costretto ad andarsene perché non ha più i mezzi per poter vivere in quella terra, quindi o se ne va all'estero, quindi cambia proprio città, quindi abbandona la madrepatria, oppure deve cambiare lavoro, quindi ci sono vedete tantissime categorie poi all'interno della stessa classe sociale, cioè non pensiamo sempre soltanto in macro categorie, cioè ricchi e poveri, perché poi bisogna distinguere tra i vari poveri, ce ne sono di tanti tipi, quindi o vendo tutte le mie proprietà, ripago i debiti e me ne vado, oppure se ho ipotecato me stesso vengo venduto come schiavo, quindi divento proprio schiavo, però perdo comunque tutto ciò che possedevo, quindi è un circolo vizioso che va praticamente ad alimentare, quindi ad arricchire ulteriormente chi è già ricco, questo è importante da capire, quindi è veramente un sistema iniquo e soprattutto che permette soltanto a pochi di continuare a esercitare liberamente in modo indisturbato il potere. Ecco, ed è qui che si inserisce quindi la riforma di Solone. Solone introduce quel concetto importantissimo, quindi la sua riforma viene definita Seisakteya. Che cos'è la Seisakteya? E' semplicemente quello scuotimento di pesi ed è un'espressione molto particolare, cioè una riforma che va proprio a cambiare, a modificare questo circolo vizioso. E che cos'è allora la Seisakteya? E' semplicemente cosa significa dunque scuotimento di pesi? Significa, come dice Solone stesso, di avere tolto le catene, quindi di aver tolto i cippi alla terra. Cosa significa? Cioè che Solone di fatto elimina la schiavitù per debiti attraverso questa riforma. Attenzione che non è un rivoluzionario ma è semplicemente un riformatore, quindi togli la schiavitù per debiti, cioè pone questo divieto e non si può più quindi ipotecare se stessi in caso di incapacità di saldare i propri debiti. Quindi non è più possibile essere venduti come schiavi, ma non si limita a questo. Togliere i cippi alle terre significa anche un'altra cosa, significa che Solone toglie tutte le terre di cui si erano impossessati in modo iniquo i nobili, richiama questi uomini che se ne erano andati da Atene, quindi richiama tutti quei contadini, quei lavoratori che avevano perduto i propri beni e Solone restituisce loro le terre, quindi richiama in patria gli ex cittadini di Atene, restituisce le terre, quindi possono tornare e automantenersi perché recuperano il mal tolto naturalmente e soprattutto toglie i nobili anche tutte le terre sacre e le terre pubbliche di cui si erano impossessati nel corso del tempo. Quindi molto probabilmente in realtà Solone non va a cambiare innovando, quindi trasformando nuovamente la società, ma molto probabilmente gli storici, gli studiosi pensano che Solone abbia ripristinato una condizione antecedente, cioè che esisteva già prima dell'avvento di Solone, soltanto che nel corso del tempo appunto sia per questa pratica iniqua della schiavitù per debiti sia per lo strapotere dei nobili, quindi per abuso anche di potere, nel corso del tempo si erano impossessati delle terre che non erano le loro, perché le terre pubbliche dovevano essere coltivate dai poveri, soprattutto ridistribuiti in modo equo tra i nullatenenti, come vedremo anche nel mondo romano, l'ager publicus doveva essere ridistribuito e assegnato, ripartito in modo equo tra i nullatenenti, quindi tra i proletari, cosa che non succederà neanche nel mondo romano purtroppo, quindi è una costante insomma del mondo antico, i nobili e i ricchi si impossessano anche di terre non loro, Solone infatti fu un arconte, come potete capire fu veramente convinto dunque della necessità di ricostruire un mondo maggiormente equo, quindi più giusto e soprattutto in modo che non esistessero più né abusi né strapotere da parte dei nobili e pertanto con lo scuotimento di pesi, con questa Seisakteia, cerca quindi di scuotere anche proprio questo assetto sociale. Solone non è un rivoluzionario, è soltanto un riformatore, cioè lui è contrario a tutti coloro che trasgrediscono le leggi e soprattutto è contrario all'ostentazione del lusso e la costruzione, la lotta per la realizzazione di un mondo più equo e giusto è veramente un percorso lungo, faticoso e le conquiste arriveranno soltanto per gradi. Solone istituì anche delle leggi contro i fanulloni, quindi obbligò tutti i genitori quindi ad insegnare i figli quindi un mestiere. Molte delle sue leggi furono fatte incidere su delle assi di legno rotanti e furono esposte nella Stoa Basileus, quindi leggi scritte che tutti avrebbero potuto quindi consultare e vedere perché erano esposte. Quali sono però le leggi quindi oltre alla Seisakteia che sono attribuiti a Solone? Interviene nelle successioni quindi nei casi di eredità sul sistema quindi di poter lasciare in eredità i propri beni ai figli, delle leggi quindi sulla validità dei testamenti, sulla tutela delle donne come ereditiere che avrebbero poi dovuto trasmettere tutti i loro beni ai figli al secondo anno di età, quindi quando il figlio avrebbe compiuto due anni e questo ovviamente per preservare il patrimonio di famiglia intatto, quindi evitare la dispersione dei beni. Se una famiglia perde i beni significa che diventa meno potente perché il potere politico è basato sul denaro, attenzione, l'accesso vedremo alle cariche pubbliche più alte dipende dalla ricchezza. Introdusse anche l'obbligo da parte dei figli di occuparsi dei genitori anziani e soprattutto quando c'era una lotta politica tutti i cives, quindi tutti i cittadini, avrebbero dovuto sempre schierarsi, quindi non è tollerata la stensione. Secondo Aristotele dunque la legge più importante che ha fatto Solone, quindi quella più democratica, fu proprio di aver eliminato dunque la schiavitù per debiti. Uno potrebbe chiedersi allora ma quali sono queste innovazioni democratiche introdotte da Solone? Beh interessante, quello che lui concesse al popolo fu proprio il tribunale popolare, l'Eliea. L'Eliea possono fare ricorso tutti i cittadini liberi, tutti i cittadini di Atene contro le decisioni prese dai funzionari pubblici, quindi si può fare ricorso o in caso di abusi oppure in caso di decisioni ritenute errate. Quindi la democrazia sta nel fatto appunto che tutti i cittadini possono comunque sorvegliare i propri funzionari, quindi si può fare ricorso, quindi hanno uno strumento maggiore per potersi tutelare e difendere, però di fatto le cariche sono ancora ricoperte dalle classi sociali più ricche, quindi al momento non cambia nulla in sostanza, cioè il fatto che le leggi di Solone fossero totalmente interamente democratiche è soltanto una propaganda di fine quinto secolo avanti Cristo, ma non è assolutamente vero in sostanza. Poi vedremo nel prossimo video che a Solone poi verrà attribuita anche la suddivisione in classi censitarie, quindi non più la divisione basata sull'Etnos, quindi sull'appartenenza a una delle quattro tribù di Atene, ma basata invece sul censo. Questo è importantissimo perché ci fa capire, questa è un'altra riforma di Solone, che cambia anche a livello proprio concettuale, quindi ideologico, la distinzione tra le varie classi sociali, non è più basata su un metro qualitativo, non è più cioè basata sulla nascita, il diritto di nascita di coloro cioè che posseggono le virtutes, cioè le qualità per poter governare. Noi sappiamo bene la nobiltà era basata quindi sul sangue, chi nasce nobile ha il diritto di governare perché possiede quelle qualità politiche, etiche e civili per poter quindi farsi carico della cosa pubblica. Non è più così, non è più un metro qualitativo ma sarà un metro quantitativo perché vedremo che Solone introdurrà quindi il censo, quindi una divisione in classi sociali basata sulla ricchezza, quindi basata sul proprio stipendio, sul proprio salario, sui propri beni, sulle proprie entrate, quindi non più sul sangue, non più sull'etnos, sull'appartenenza a un certo tipo di famiglia piuttosto che un'altra. Quindi scopriremo che cosa cambierà, che è una riforma importante almeno sulla carta ma poi nella realtà pratica scopriremo che sarà invece una conquista molto lunga e veramente faticosa. Arrivederci a tutti alla prossima lezione.